Blitz dei carabinieri della stazione di Brolo contro l'utilizzo di schede irregolari delle pay tv all'interno di locali pubblici e circoli. Il titolare di una sala giochi ed il rappresentante legale di un circolo privato di Brolo sono stati denunciati a seguito dei controlli effettuati nelle sere scorse. Nel mirino, come detto, l'utilizzo di schede irregolari per la visione dei canali a pagamento, che per essere utilizzate all'interno dei locali aperti al pubblico necessitano di un abbonamento speciale con un costo ben superiore rispetto a quello domestico. Nel dettaglio, i militari della stazione brolese, coordinati dal maresciallo Carmelo Grillo, insieme agli ispettori di Mediaset Premium, si sono presentati in diversi club e locali pubblici di Brolo in concomitanza con la diretta delle gare di calcio di Champions League. In alcuni casi, il possesso delle schede con l'apposito abbonamento dedicato ai locali pubblici è risultato regolare, mentre nella sala giochi e nel circolo privato sono state riscontrate irregolarità nelle tessere utilizzate. Immediatamente è scattato dunque il sequestro delle schede illecite e la contestuale emissione di un verbale da 7.000 euro. Per il titolare della sala giochi ed il legale rappresentante del club è quindi partita anche la denuncia penale.